Sono entrati da dietro, da quella strada lì, parallela, che entra dietro la sebre c'è una strada e praticamente hanno saltato la recensione, sono andati in un orto di un vicino, dall'orto del vicino hanno fatto una buca nella rete e sono entrati. Danni? Danni, più che altro danni, perché hanno buttato giù una finestra, hanno tentato di buttare giù un finestrone, non ci sono riusciti e hanno buttato giù una finestra. Continua ad essere bersagliata dai furti la zona di Campoluce ad Arezzo, l'ultimo della serie si è verificato sabato sera quando i ladri sono entrati all'interno di un'abitazione con i proprietari assenti, è stata però la velocità di un vicino di casa a notare degli strani movimenti, a dare l'allarme e sicuramente a mettere fretta ai banditi. Un caso dunque dove la collaborazione tra vicini di casa anche attraverso lo smartphone ha impedito danni ben più gravi. È lo stesso proprietario di casa che per ragioni di sicurezza preferisce rimanere anonimo a raccontarci anche la preoccupazione dei residenti che si sentono bersaglio fin troppo facile dei ladri. Qui ha rubato un po' dappertutto, anche qua giù ha delle ville fatte anche degli ingenti, dei furti grossi. È un problema perché non si riesca a risolvere una cosa del genere. Ti accorgi che non ti puoi allontanare neanche di casa. La prima volta hanno tentato era al di notte, alle 4 di notte, però non ci sono riusciti perché abbagliato dei cani e sono andati via. A questo giro non hanno trovato nessuno e fortuna che sempre i vicini erano lì perché se non c'era nessuno si trovava la casa distrutta.